Musica Ben ritrovati con l'informazione, apriamo il nostro giornale con la cronaca. Le 6 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti a Bagnolo di Lonigo in provincia di Vicenza per un'auto finita in un fossato con due feriti a bordo. I popieri arrivati dal locale di sacramento hanno messo in sicurezza la vettura posizionata in un fianco e quindi è destratto il primo passeggero rimasto bloccato all'interno mentre l'autista era riuscito a venire fuori in maniera autonoma. I due feriti sono stati poi presi in cura dal personale del suo M118 e quindi trasportati al pronto soccorso. E alle 13 di oggi sempre i vigili del fuoco sono intervenuti in via San Antonino a Vicenza per un incidente stradale dove sono rimaste coinvolte alcune auto. Due feriti. La squadra della prima partenza ha messo in sicurezza i mezzi mentre gli autisti delle altre due auto, principalmente coinvolte, venuti fuori dalle auto accidentate in forma autonoma, erano già stati presi in cura dal personale del suo M118 per essere trasferiti all'ospedale. Il leso, il terzo conducente. La polizia locale ha eseguito i rilievi del caso. E sempre oggi pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti in via della Concia a Montebello Vicentino per la presenza di odore di gas percepita da alcuni passanti. Dopo una ricerca strumentale i vigili del fuoco hanno individuato una piccola perdita in una tubazione di media pressione a monte di una cabina di metano a servizio di una azienda conciaria. I vigili del fuoco hanno provveduto quindi ad un primo intervento di tamponamento della perdita di gas fino all'arrivo dei tecnici della rete del metano. Probabilmente un tratto della tubazione dovrà essere sostituita. A Padova ormai può capitare davvero di tutto. Domenica, ad esempio, un cittadino ha chiamato in soccorso i vigili urbani per recuperare la propria bici che, riconosciuta, era in uno strallo in corso Garibaldi, incatenata. Vediamo il servizio di Giulia Tasca. Non si tratta del remake del cult di Vittorio De Sica, ma di sicuro i ladri di biciclette Padovani stanno escogitando ogni tipo di effetto speciale per mettere in scena il furto perfetto. Come il buon Antonio Ricci al termine del turno di lavoro, domenica 1 dicembre alle ore 14.30, NS si accorge che alla ruota anteriore della sua bicicletta, oltre alla sua, è legata una seconda catena. Decisa a non abbandonare il suo fido destriero, sempre da copione, chiede aiuto alle forze dell'ordine che, nel giro di una decina di minuti, recuperano un tronchese e, dopo vari tentativi falliti, riescono finalmente a liberare la bicicletta. Il tutto accade alla luce del sole di un pomeriggio o domenicale, in pieno centro città, al numero 7 di Corso Garibaldi. In un periodo in cui le campagne di sensibilizzazione alla responsabilità ambientale sono all'ordine del giorno, così come i progetti che mirano a incentivare l'utilizzo di mezzi a impatto ambientale zero, e soprattutto in una città in cui è difficile trovare qualcuno che non possegga una bicicletta, i furti sono decisamente ancora troppo frequenti e i ladri sempre più scaltri. Ancora una cronaca e ancora da chiarire del tutto quello che è il complesso contorno della vicenda che ha visto finire in carcere. Peter Kekuba è accusato di aver sequestrato una ragazza di 22 anni, cieca, conosciuta in chat. Quel che è emerso consente però di tratteggiare una storia dell'orrore che potrebbe coinvolgere anche terze persone. Il 26enne nigeriano, residente a Tombolo, in un appartamento di proprietà di una cooperativa sociale, avrebbe impressionato per quasi due settimane la ragazza, impedendole di uscire e comunicare con l'esterno, picchiandola ogni giorno e rubandole l'equivalente di 2 mila euro. A testimoniare le violenze fisiche e psicologiche è stata la stessa vittima liberata sabato scorso grazie ad un blitz dei carabinieri. Tutto sarebbe cominciato dalla conoscenza via internet tra la 22enne e il nigeriano. Lui si trova in Italia come richiedente asilo, lei invece vive nella Repubblica Ceca in un contesto sociale piuttosto precario. Si sono scambiati centinaia di messaggi finché l'uomo l'ha invitata a raggiungerlo appunto nel Padovano. Lei ha accettato, ha acquistato un biglietto dell'autobus e intorno alla metà di ottobre è arrivata a Tribano, dove doveva essere un abbozzo di convivenza che invece si è tramutato in prigionia. E' un centro storico sempre più in balia di balordi violenti a Padova, rissa con calci e pugni anche sabato sera. E' bastata una parola di troppo perché a lunedì notte in piazza Capitaniato un 28enne cameriere di un ristorante si sia ritrovato massacrato di botte con un occhio tumefatto e la mandibola seriamente fratturata. Aggredito anche il collega che è rimasto ferito ad una mano. Stando a quanto ricostruito dalle squadre volanti e della polizia, gli aggressori sarebbero due nordafricani con tutta probabilità tunisini che erano in giro con una terza persona italiana. I due camerieri che lavorano al ristorante antico di Via Dondi sostengono anche che i picchiatori avessero con sé dei tirapugni. Ricordiamo che per il 28enne la diagnosi all'ospedale è stata impietuosa, frattura la mascella e dovrà essere operato. L'episodio ricorda anche la lissa che ha visto coinvolto il rapper italo-senegalese Diga Nium che giovedì notte è stato aggredito in piazzale San Giovanni da qualcuno che gli ha provocato un taglio alla coscia sotturato con 30 giorni di prognose. Da sabato scorso è aperto al traffico cittadino l'ultimo segmento dell'arco di Giano, ovvero la strada che parte dalla rotatoria di San Lazzaro fino al collegamento con Corso Australia e via Eunaudi. Vediamo il servizio di Giulia Tasca. Lo scorso sabato 30 novembre alle ore 12 è stato inaugurato e finalmente aperto al pubblico dal sindaco Sergio Giordani e dall'assessore lavori pubblici Andrea Micalizzi l'ultimo segmento di 900 metri dell'arco di Giano, ovvero quello corrispondente al tratto che parte dalla rotatoria di San Lazzaro fino al collegamento con Corso Irlanda e via Eunaudi. Dopo l'apertura del collegamento da via Maroncelli a San Lazzaro e il nuovo cavalcavia Maroncelli, il completamento di quest'ultima fase dei lavori permetterà, uscendo da Padova Est, di raggiungere il centro evitando la stanga e l'asse di via Niccolò Tommaseo. Sui campi che ora circondano quest'ultimo tratto sorgerà il nuovo ospedale di Padova. È molto importante, devo dare merito all'assessore Micalizzi che ha lavorato con passione e volontà. Di solito siamo un po' in ritardo, stavolta ha mantenuto abbastanza i tempi, devo ringraziare l'impresa. È un'opera veramente che non è stata fatta, sono iniziata con altre amministrazioni e bisogna dare merito anche a questo. E cambierà la viabilità di Padova. Non sarà facile l'inizio perché tutti noi padovani, io per primo, siamo abitudinari per cui andiamo sempre per le solite strade. Però questo dovrà essere importantissimo per snellire il traffico della stanga. Mi auguro, spero, un po' di informazione, faremo un po' di informazione. Ho chiesto se c'è la segnala elettrica sia orizzontale che verticale, hanno detto che è perfetta. Mi auguro e spero che un po' alla volta impariamo tutti a usarla. È anche un investimento per la Padova del futuro perché qua sorgerà il nuovo ospedale. Ovviamente sì, sarà completato il momento, ovviamente, ma è il primo passo di una viabilità importante che poi sicuramente la regione si attrezzerà in termini economici per provvedere a continuare a farla. Torniamo alla cronaca. Un arresto in fragranza di reato, il sequestro di un discreto quantitativo di droga. Il servizio antispaccio allestito domenica dai carabinieri della stazione di Padova ha visto appunto questo bottino principale con la collaborazione dei colleghi del CIO di Mestre. I militari hanno pattugliato diverse aree di Padova, concentrandosi poi nella tarda serata in zona industriale. Lungo via Uruguay hanno notato una lancia K con un uomo al posto di guida. Dopo aver fatto accostare il veicolo, al conducente sono stati chiesti i documenti e ne è seguita una perquisizione dell'abitacolo. Qui all'interno hanno trovato un sasso di circa 30 grammi di eroina pura. Questo che ha lasciato pochi dubbi sul fatto che il guidatore si fosse da poco rifornito dello stupefacente. Elemento in proprio o consegnandolo ad altri, per Pier Giorgio Giraldo, 68 anni di Adria, in provincia di Rovigo, è scattato l'arresto, mentre la sostanza veniva sequestrata per successive analisi. Due stranieri, un marocchino 24 anni residente a Torino, Mohamed Ben Daffi, e un imam 19enne bengalese, Joaned Ahmed, residente a Padova, sono stati espulsi per motivi di sicurezza dallo Stato. Le indagini hanno accertato che entrambi condividevano una visione radicale dell'Islam. Ebbene, salgono così a 454 le espulsioni eseguite dal 2015 ad oggi, di cui 91 nel solo 2019. Nel 2018 sono stati eseguiti 126 lontanamente, mentre erano stati 105 nel 2017. Non ha raggiunto il quorum del 50% più 1, il referendum per la separazione di Venezia da Mestre. La chiusura dei seggi si è recato alle urne il 21,73% degli eventi e diritto, pali a 44.887 cittadini a fronte dei 206.553 iscritti. Ha richiamato ieri sera in Piazza delle Erbe circa 6.000 persone, nonostante la pioggia, il primo raduno delle sardine a Padova. I manifestanti hanno riempito la porzione di piazza a loro riservata, mentre l'altra metà è stata occupata da un evento sportivo. Tanta gente anche sulle scale di Palazzo della Ragione e sotto i portici di Palazzo Moroni, sede del comune. In piazza, cartelli, striscioni, sagome a forma di pesce e anche ombrelli aperti ad intermittenza. Il premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica 2020 ha visto oggi la scelta della cinquina finalista. Vediamo i nomi, Barbugliani, Brunelli, Buoniconti, Cossu, Derrico e Freddiani. Curiosi tra tre dei cinque finalisti appartengono al Mondo Rosa. Appuntamento ora fissato per l'8 maggio in Aula Magna, Palazzo del Bo a Padova, per la cerimonia di consegna del premio. Parliamo delle 4.099 lettere inviate. Ebbene di queste, già 1.200 cittadini padovani hanno fatto richiesta per accedere al fondo straordinario messo a disposizione dal comune di Padova destinato agli inquilini di case popolari per la conseguenza della nuova legge regionale che si sono ritrovati un aumento importante del canone d'affitto. Per definire i criteri di erogizione del fondo siamo in attesa di capire se la regione manterrà o meno le sue promesse, dicono in comune. Se la regione dovesse fare l'annunciato passo indietro evitando l'aumento dei canoni in nostro fondo andrà a integrare il fondo già a disposizione per le spese condominali. Sarà a Padova ad ospitare il primo museo di geografia in Italia e sarà allestito presso Palazzo Vollenborg, il servizio di Giulia Tasca. Sarà a Padova ad ospitare il primo museo d'Italia dedicato alla geografia. Il museo è stato allestito presso Palazzo Vollenborg, sede del Dipartimento di Scienze Storiche e Geografiche dell'Antichità, al 26 di Via del Santo, nel cuore della città. Nord-Sud-Ovest-Est, questo è il nome scelto per il tredicesimo museo dell'Ateneo di Padova, consta di tre sale, create per avvicinare il pubblico ad una branca del sapere che nonostante ci riguardi direttamente in qualità di abitanti del mondo, non è molto conosciuta. Un progetto di diffusione di conoscenza geografica reso possibile dalla disponibilità di un patrimonio culturale frutto di 150 anni di attività scientifica e didattica dell'Ateneo Patavino. Ancora una volta le competenze del passato si mettono a servizio del presente in una prospettiva che guarda il futuro. In un periodo storico in cui non passa giorno senza che si parli di salvaguardia del pianeta, un museo per esplorare, misurare e raccontare, perché non si può proteggere qualcosa che non si conosce. Parte l'iniziativa Un Presepe per noi, inviate un vostro filmato alla nostra redazione a tecnicochiocciola.it del vostro presepe o del presepe della vostra parrocchia. Ogni settimana verranno pubblicati durante le nostre edizioni del Tg. Per informazioni potete chiamare anche la nostra redazione 049 7800 204. Bene, è tutto per questa nostra edizione del giornale. Grazie per averci seguito e come sempre una buona visione dei nostri programmi. Grazie per aver guardato il video.